Benvenuti a questo video dedicato alla scoperta di uno dei talenti emergenti del calcio italiano, Niccolò Pisilli, l'ultimo giovane giocatore della Primavera della Roma convocato dal tecnico portoghese José Mourinho per la prima squadra. Pisilli, numero 8 della squadra guidata dal tecnico Guidi, è il decimo prodotto del settore giovanile promosso da Mourinho in prima squadra. In questo video analizzeremo la carriera del giovane calciatore e cercheremo di capire quali sono le sue qualità e come potrebbe inserirsi nella squadra della Roma. Niccolò Pisilli è probabilmente il talento più cristallino che la Primavera di Federico Guidi sta mettendo in luce in questa stagione. A Trigoria se ne sono accorti da tempo. Lo scorso primo dicembre ha firmato il suo primo contratto da professionista legandosi ai colori giallorossi fino al 2026. Ieri l'allenamento con i grandi e oggi anche la convocazione per il match casalingo contro il Sassuolo. È il decimo bambino chiamato da Mourinho dopo Felix, Volpato, Keramizis, Missori, Faticanti, Tairovic e tutti con almeno una presenza, Cassano, Cherubini e Tripi e solamente convocati. I primi calci li dà nella scuola calcio Helios ma la Roma ci mette poco a scovare il suo talento grazie alla rete di scouting che copre tutto il territorio della capitale. In giallorosso fin dai pulcini, il rendimento di Pisilli si è notevolmente alzato nelle ultime due stagioni. Alberto De Rossi prima di lasciare la panchina, lo ha lanciato in primavera strapandolo all'Under 18 di Scurto, dopo che l'anno precedente aveva anche vinto lo scudetto Under 17 e gol decisivo in semifinale. Con lo storico allenatore giallorosso gioca sei partite prima di un infortunio alla caviglia che lo ha costretto ai box fino a fine stagione. Quest'anno la definitiva consacrazione, nove gol in 24 partite, e un ruolo centrale nella formazione titolare di Guidi che ogni settimana gli affida la prima maglia, insieme alla numero 16 di Faticanti, è cresciuto con lui dentro Trigoria. Caratteristiche tecniche Centrocampista o meglio, mezzala, ma nella più classica delle interpretazioni e il numero sulle spalle non poteva che essere L8. Rientra stabilmente nelle convocazioni di Bollini con l'Under 19 azzur e la caratteristica che salta subito all'occhio è la capacità di leggere il gioco in entrambe le fasi. Spesso è protagonista dei cosiddetti break a centrocampo, riuscendo a trasformare l'azione da difensiva a offensiva. Ha ottimi tempi di inserimento messi in mostra anche e soprattutto nel gol contro il Milan che ha fatto il giro del mondo letteralmente. Nel match contro i rossoneri è lui a far partire l'azione allargando sulla sinistra, prima di ricevere nuovamente il pallone e superare con un tunnel il diretto avversario. Qui la sua intelligenza tattica, lascia il pallone ad un compagno che imbuca per la sponda di tacco dell'attaccante sulla quale arriva sempre lui, con il tempo giusto, al limite dell'area. Destro di prima intenzione all'angolino e gol del 2-0. In conclusione, Niccolò Pisilli rappresenta uno dei talenti più promettenti del calcio italiano e la sua convocazione in prima squadra conferma l'attenzione che il tecnico José Mourinho dedica ai giovani talenti del settore giovanile. Cosa ne pensate voi? Fateci sapere la vostra opinione nei commenti qui sotto e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al nostro canale per non perdere i nostri prossimi video dedicati al mondo dello sport e alle storie dei giovani talenti del calcio. Grazie per averci seguito e ci vediamo al prossimo video. Grazie per aver guardato il video.